Starza di Pietrastornina si prepara a vivere la finalissima del primo torneo di calcetto intitolato ad Antonio Coppola, presidente dell'ACI e cittadino onorario del Comune, appuntamento alle 21 di questa sera presso la struttura polivalente. Il torneo, organizzato dall'associazione AS Starza, presieduta da Carmine Tirri, ha destato grande interesse in tutti i centri della zona, arrivando a coinvolgere un centinaio di giovani. A sfidarsi per il primo posto saranno AS Starza e Altavilla Irpina. Un piccolo evento per la contrada immersa nel verde, in uno scenario paesaggistico mozzafiato, ma che conta solo 40 abitanti e vive numerosi problemi, dallo spopolamento all'assenza di servizi. All'interno della struttura dove si terrà la finale, sarà possibile visitare anche un'affascinante e suggestiva mostra fotografica con scatti che raccontano il passato della comunità. Oltre all'aspetto prettamente sportivo, l'obiettivo degli organizzatori del torneo è proprio quello di far rivivere la contrada. È stato un notevole successo questo torneo, è un interesse di tutti i paesi limitrofi. Ci sono dieci squadre che hanno partecipato, Altavilla, Avellino, Santa Ciascala, Rocco Bacerana, Pannarano, Pietra Stornina e altri. E quindi tutte le sere si è disputato tre partite e alla fine si sono selezionate due squadre che svolgeranno la finalissima per aggiudicarsi il premio. Un modo anche per rivitalizzare il quartiere e la zona? Certamente, questa è la cosa più importante, quella di aggregare i giovani, far conoscere i giovani tra di loro, far partecipare anche le amministrazioni comunali che a volte sono un po' tradizionaliste per gli interessi che portano avanti. E quindi penso che abbiamo avuto un bel successo e una buona aggregazione e quindi con la partecipazione alla finalissima dei sindaci di tutti i paesi limitrofi, compreso il sindaco di Avellino.